buongiorno ragazze bentornati sul mio canale youtube make up occhi verdi oggi vi presento questo abito in rosso vinaccia del marchio IEM è un abitino lungo molto elegante ma poco costoso l'ho pagato solo 29,90 euro come vedete io lo indosso con delle scarpine basse e con dei sandali ma ovviamente può essere indossato anche con dei tacchi al collo si aggancia così con questo comido lacino e sul punto vita si può come dire ingentilire con una cintura in pelle o similpelle nera la tracolla che ho utilizzato la mia amatissima uterque del marchio spagnolo piuttosto noto e in pelle nera pitonata a questa doppia catena appunto in pelle e in oro ma si può portare anche lunga vedete e per chi più tra voi e vuole essere più comoda io in effetti l'amo a tracolla l'abitino vi dicevo è molto lungo probabilmente lo farò accorciare giusto un po' ma ovviamente è molto molto elegante con i sandalini che ho utilizzato della creator ovviamente risulta anche un abito che si può indossare per un cocktail alla sera ma ovviamente con un bel tacco sarebbe ancora più legante ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se si lasciate un like non dimenticate di sottoscrivere al canale ciao a presto